Mosca ha subito un raro attacco di droni, il più massiccio mai sferrato fino ad ora come risposta agli attacchi russi in Ucraina. Secondo il portavoce del Kremlin, Dmitry Peskov, sono stati registrati solo lievi danni a diversi edifici dopo che tutti i servizi di emergenza sono stati attivati. Le autorità russe parlano di un atto terroristico. Per i moscoviti ora la questione si fa estremamente delicata. La situazione di attraverso il suo domo è stata una situazione molto difficile. Non mi piacerebbe che così piacerebbe, che in 7 matti a te si sono stati e parlano di evacuazione. La guerra è la guerra, quindi ci sono stati attraverso e capire, s'è chi si va a fare e s'è chi si va a fare. Sì, perché non ci sono stati, non ci sono stati, non ci sono stati. Non è vero, 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 è tutto bene. Kiev intanto ha smentito ogni coinvolgimento nella raid su Mosca. Il rappresentante del comando dell'aeronautica ucraina ha definito comunque questo attacco problemi interni della Russia, che saranno sempre più frequenti.